Benvenuti in questo nuovo video della Big Vanilla, quest'oggi si ritorna qui, faremo qualcosa di diverso dal solito Nel senso, da una parte ho fatto una nuova costruzione nella nostra bellissima Cattown e quindi tra poco la vedrete sia voi che fare Dall'altra parte però, abbiamo inserito una piccola magia che permetterà di rendere la Big Vanilla fatta completamente di Lego E quindi faremo un tour per vedere come risulta la Big Vanilla di Lego Bellissimo! No, è bellissimo, chissà come sarebbe, riesci a immaginartela, bellissimo No, infatti per quello ve la vediamo Infatti Tra l'altro, finalmente è arrivata la prima città degli animali fatta da Buddy, ovviamente fatta sugli axelotl come potete vedere E andremo a vedere anche questa perché sono molto curioso di vedere cosa tutto ha combinato Allora, Fere, sei pronta? Comunque, solo per questo Buddy è perdonato, te lo dico, è stato il primo che ha ascoltato il mio ordine Esatto, ha fatto subito la sua città degli animali quindi sono felicissima, ha perdonato, siamo di nuovo super amici Allora, appena arrivi guarda per terra perché non so rispetto a dove arriviamo, dove è la costruzione Ok, è perfettamente di fronte quindi guarda per terra Ok, sto guardando per terra Perfetto, allora Devo seguire, vedo i tuoi piedi Ferma, ferma, guarda a terra Sto guardando a terra Allora, vai verso di me Ok, ti vedo Ok Stop Ok, verso di me e guarda in alto No Ma anche per questo hai seguito un tutorial Sì Ecco Aveva 800 views però questo tutorial ed era molto scarso Ci ho messo un'eternità e mezzo No, no, non lo devi dire No, per esempio, toglieva i blocchi e li rimetteva ogni due secondi Lo stavo maledicendo Se andrà in bagno tante volte oggi è colpa mia No, Steph È stato veramente difficile però Però devo dire che ti è uscito davvero bene Che carini i baffi fatti con le ragnate Vero? Sono fantastici, sì Mi è piaciuto troppo anche a me come dettaglio E quindi, questo tra l'altro è un commento che ci avete scritto voi Cioè, ti ha detto perché non fate il gatto fortunato? Il gatto della fortuna Il gatto della fortuna Che tra l'altro è della tradizione cinese Io pensavo fosse della tradizione giapponese Invece è tradizione cinese Da quello che ho letto Esatto, sì, sì Ed è troppo bellino Ottima idea Grazie mille del commento e del consiglio Consigliateci altre cose da fare nella nostra città dei gatti Però devo dire che come seconda costruzione è veramente carina No, è bellissimo Altro che carina, Steph È meravigliosa Cioè, così sì Che è proprio una cut town, Steph Tra l'altro Fer l'ho messo al posto della chiesa Perché lì c'era la chiesa E abbiamo proprio scritto Mettila al posto della chiesa Perché effettivamente la forma era abbastanza simile Quindi ho raso solo la chiesa e l'ho messo lì No, è fatto bene anche perché poi pian piano dobbiamo toglierle tutte le casette Poveri villager però Esatto Quindi in questo momento abbiamo una doppia costruzione con i gatti E inizia a dare sempre di più il feeling di una città dei gatti Perché iniziamo ad avere un sacco di gatti Beh, due Non sono tantissimi Ce ne sono tanti in giro Quindi comunque sono tanti Sì E poi abbiamo già due costruzioni Che non è per niente male Comunque come potete vedere l'ho anche modificata questa Adesso è davvero Camille L'avevi già fatto o no? No, 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 no L'ho fatto dopo, Steph È vero Dopo che l'avevamo mostrata I villager andavano su questa E veniva a te trasportato La rimetto prima di venire da te Ok, allora mi mangio un pezzettino di pane Ciao Fere Sei pronta? Sì, prontissima Andiamo Vediamo cosa tutto Se mi deprimo Veramente io Camille Non porto avanti la cat town Io ho paura di quello Cioè che sia già bellissima E quindi facciamo solo la cura Però non è quella di Marci Quindi teoricamente è ancora fattibile Però anche Buddy è molto bravo a costruire Stai Andiamo, dai Ok Ok Allora E qui sott'acqua Ovviamente Perché sono degli axolot Allora Vedo un axolot gigante Vediamo un attimino Si scende tipo così Ma è troppo carino Vediamo Stai, io ci sto ancora arrivando Ma era qui di fronte, Steph Dove sei andato? E ho fatto un giro a lungo, effettivamente Era qui di fronte Molto carino È troppo carino Però Non mi piace la posizione Dici Troppo Troppo poco fondale Ok E quindi risulta troppo vicino alle montagnette Ma secondo me è fatta apposta Perché è la prima costruzione Poi anzi È una bellissima zona dove spande Allora È pieno di coralli Quindi è molto bello Esatto È molto molto bella Quindi secondo me ha fatto benissimo Però potrebbe essere un pochino complicato E poi sbaglio O non c'è un'entrata? No Qui sopra Dove? Qui sopra Vedi? Si può entrare? Aspetta 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 Che sto facendo un disastro Arrivo Ok Ok Ha utilizzato il trucco per fare il blocco dell'acqua Quindi come vedete qui è tutto perfettamente asciutto Si scende con queste scale Un pochino di luci Stai imparando a costruire Più o meno Però non stai facendo nulla Stai imparando a copiare le costruzioni Però è così che si impara Nei commenti dovete spammare Che volete che Fere costruisca Perché altrimenti lei fa la scansa fatiche Esatto Ma perché io sono la regina Io so volare Ma pensate una cosa Tipi Non c'è un modo per tornare E non sappiamo dove siamo No No Buddy Signori benvenuti in una nuova serie Sopravvivenza in un'isola deserta È diventato Quest'oggi cercheremo di sopravvivere A tutte le difficoltà della vita in un'isola deserta Anziché Big Vanilla Big Isola Perché Ma dove siamo? No Come facciamo a tornare indietro? Lo so È terribile Siamo tornati Ovviamente siamo al centro della Big Vanilla Potete già vedere dal terreno Che qualcosa è drasticamente cambiato È cambiato E adesso Guarderò Tutto attorno Non sembra neanche più la Big Vanilla Steph Allora Non riesco a riconoscerla quasi Guarda che carino il gattino Guarda i blocchi di lana Il gattino è troppo carino così Sì sì Guarda anche l'Axolotl Che è diventato tutto con blocchetti di Lego Bellissimo Allora Facciamoci una passeggiatina E vediamo un pochino Come risulta tutto quanto di Lego Tra l'altro Ne approfittiamo per passare in un posto Perché so che c'è una cosa È work in progress in building In questo momento Che voglio andare a vedere Allora Sperando di fare spoiler E di far danni Molto carino Ok Guarda anche le foglie Anche le foglie risultano Anche le foglie sono di Lego Esatto Carinissimo Carinissimo Da queste parti Ok Ok Mi piace Guarda il ponte Che strano Il ponte Lo stesso È una cosa fighissima Sembra quegli spuntoni però Guarda questi Perché questi sono i blocchi Tipo girati al contrario Non lo sai Presente come sono fatti i blocchi di Lego Questa è la parte di sotto Sì sì Quello è l'incastro Dove puoi incastrare l'Ego È molto carino l'effetto comunque Sì sì Molto Perché non è neanche eccessivo Cioè certe cose sono rimaste classiche Come ad esempio le casse Ed è un qualcosa che mi piace Perché si abbina bene Guarda l'albero Steph Guarda il tronco lì sopra Ah è vero Ho visto Che carino come dettaglio Ma io ti dicevo Secondo me è un ottimo mix Perché non è eccessivo Dà quel qualcosa in più Cioè ovviamente ti incuriosisce Però non riempie tutto quanto Sono d'accordo Fere Sono totalmente d'accordo Ma qua Esisteva Fere Cosa? Questa Devo bruciarla Ma Ci sono tutti i gatti Scusate Per me è questa Il gatto nero con gli occhi arancioni Scusami quando me l'hai visto Ne voglio uno uguale Ne voglio collezionare Aspetta Steph Ma allora Da quando in qua in Minecraft Ci sono tutte queste varianti Penso che queste siano Tutte le varianti esistenti possibili Ok E che si sono Siamo stati Su Shack Su Asa Ok Non ho capito niente Era una magia Comunque di Marci Perché Mew è il gatto di Marci Sì sì Secondo me sono tutti i gatti Possibili e immaginabili Di Minecraft Combinati qua tutti assieme carini Allora Ma a me questo nero Con gli occhi arancioni È bellissimo È bellissimo Ma anche questo tutto bianco Guarda che carino Anche quello tutto bianco Molto molto carino Ma anche questo qua Mezzo arancione Questo è il gatto Col muso schiacciato Ce l'è presente Quello miele Che di solito Ha la colorazione arancione Guarda in faccia Quello bianco Fere Hai gli occhi Di due colori diversi Sì sì Che anche quello può capitare No sono bellissimi Dobbiamo ottenere Molti più gatti Per la città dei gatti Esatto Non va bene così Ciao anche miele Comunque non lo sono tutti Perché questo miele In effetti non c'era Sì vabbè Sono tantissimi Non so proprio Che ci fosse Allora Andiamo a vedere Perché teoricamente Marci Oh Che cavolo Cos'è stato Che paura Facciamo arco contro arco Dai Steph Muoviamoci Tecnicamente Marci Tecnicamente Marci Ha iniziato a costruire Il tuo castello È vero Che me l'ha anche detto Quindi Gli andrei a dare Una sbirciatina Sì io tra gatti Tutte queste cose Mi sono dimenticata Però è vero Rischiamo di far spoiler Io te lo dico eh No dai Allora Secondo me no Lui ha già fatto vedere Perché ho visto già un video L'ho fatto vedere Però rispetto al nostro video Di quando esce Probabilmente sarà già più costruito Quindi vedrete una parte parziale Del castello Ma siccome ho visto il suo video Secondo me è incredibile Allora Faccio un attimino fuori Questi cavolo di scheletri E Ferre Utilizziamo l'elitra Ce l'hai? Eh Non ce l'ho qua Mi spiace Mi hai lasciato accà Dove andare a piedi? Eh sì Mi vuoi fare andare a piedi? Sì Vai tu con l'elitra Ti raggiungo dai Va bene Io volo Ti abbandono Arrivederci mia regina Allora Lasciami in pace Phantom Wii Ok Da questa parte Non mi devo perdere Teoricamente Devo andare Verso qui Poi Arrivo Al villaggio Credo sia nella stessa posizione L'ho dato per scontato Penso proprio di sì 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 lo è Che l'altro castello Poi è andato distrutto Ok Molto interessante Anche questa zona La zona della fontana È molto carina Devo dire In versione Lego E ti sto aspettando Perché così Facciamo la reazione insieme Muoviti Oh mio dio Oh Ma stai scherzando Già Aspetta aspetta Che c'è scritto Allora allora Castello dell'Umbigre Vabbè ma queste forse Sono cose vecchie Ho premuto quello giusto Di bottone Mi sa di no vero Io ogni volta mi sbaglio C'è qualcosa che si sta muovendo Però Senza dei meccanismi Ecco Questo è quello giusto Ok Oh Allora Ovviamente notte E ovviamente Non essendoci ancora le torce Tutto quanto risulta Più scuro di quello che è Però No è meraviglioso È perfettamente Dei colori di fere Esatto È meraviglioso Steph è molto più bello Del castello precedente Cioè si è superato Marci Ha utilizzato un sacco di ametista Allora non spogliamo troppo Non lo so se si può far vedere tutto Ma vedi che dentro Esatto Un work in progress È fatto con i nuovi blocchi Quelli scuri Che ci stanno troppo bene Perché poi con lo stacco dell'oro No vabbè Cioè Bellissimo Bellissimo Allora Qua non so gente che si dice cose strane Vabbè Li lasciamo Non sono cose che ci riguardano Non sono cose che riguardano noi Ma è una figata ragazzi È bellissimo È veramente bello È meraviglioso Steph E ma a questo punto tu vivrai Nella nostra casa Nella cut town O nel castello Nella cut town è ovvio I gatti vincono anche sui castelli Certo Ho capito Allora se dovessi fare Capito Se tu nella vita devi avere delle priorità Ci sono i gatti Sì Poi le case bellissime È la casa dove vivi Quindi in questo caso La casa bellissima è il castello Però i gatti hanno la priorità Ho capito Oppure posso fare un po' e un po' Tipo il castello I giorni dispari Il castello Esatto Devi dare gli ordini a qualcuno Quindi ti serve andare un attimino a corte A dirigere tutto quanto La cut town è dove vivi E tipo la nostra casa diventa la casa vacanze Ok E tipo abbiamo tre case Bello Vabbè Bello Vabbè Da Poracci e la Big Vanilla Siamo diventati ricchi Steph Beh Prima o poi Bellissimo Questa serie va avanti da quasi un anno Grazie al cavolo che prima o poi diventavamo ricchi Era anche ora Mi piace troppo l'effetto dell'erba Del grass Ok E delle foglie Le foglie sono le mie preferite Ma anche la fontana Guarda che carina Sì ma guarda anche questi L'erbaccia Troppo 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 bellina Allora Nei commenti Mi raccomando Scriveteci altre idee per la cut town Perché noi piano piano Continuiamo come vedete A svilupparla Diventerà sempre più bella E sempre più grande Magari iniziamo a fare anche in qualche video Qualche costruzione Io ovviamente per ora non lo sto facendo Perché seguendo il tutorial È un po' complicata Come cosa Però Certo Se volete possiamo provare a costruire Anche in video Ovviamente la città Ci vorrà un bel po' per finirla Ma stiamo facendo dei bei progressi E mi sta piacendo sempre di più Quindi sono felicissima Il nostro progetto E speriamo che piano piano Anche altri youtuber Della serie Inizino piano piano A fare la loro città Perché sarebbe bellissimo Altrimenti Tutti gli animali Altrimenti Buttati fuori Buttati fuori È ufficiale Sì 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 È un ordine obbligatorio Fuori dove però Fuori dalla Big Vanilla O fuori dalla zona Dalla Big Vanilla Totalmente Drastico Drastico Altrimenti non lo fanno Steph Ho capito Ho capito Quindi signori L'avete sentita Qua era quasi una minaccia Vi voglio far vedere Per finire Questa bellissima Crafting table di Lego Molto molto carina Io direi che ci fermiamo così Per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Sotto Come se per voi Altri video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao Ciao